Annata Tangelo è stata aspramente criticata per aver postato delle foto un po' piccanti in cui erano evidente le sue curve Il motivo? Pare che la compagna di Gigi D'Alessio sia ricorsa troppo spesso al bisturi Annata Tangelo è al centro dei riflettori per una foto pubblicata sul suo profilo Instagram Il motivo? Alcuni utenti sostengono che la foto sia troppo ritoccata.La foto pubblicata da Annata Tangelo su Instagram La compagna di Gigi D'Alessio è finita nel mirino degli haters per una foto pubblicata sul suo profilo Instagram Alcuni fallover senza troppi giri di parole, hanno criticato la cantante napoletana sostenendo che la foto fosse troppo ritoccata Lo scatto in morta alla Annata Tangelo con un vestitino molto corto color cipria che ha mandato in delirio il suo pubblico virtuale. Ai fan non è passata inosservata la scollatura che lascia ben poco all'immaginazione In poche ore la foto ha raccolto moltissimi like e tanti sono stati i commenti dei fan in cui si dicono incantati della sua disarmante bellezza, delle foto così belle e sensuali le hanno fatto conquistare l'ammirazione dei fan Alcuni in effetti si chiedono come faccia a diventare sempre più bella, e perché è così difficile trovare ragazze belle come lei in giro nei posti comuni Come sempre non mancano le critiche nei confronti della ragazza di periferia. Alcuni utenti l'accusano di truccarsi troppo e che i ritocchini la rendono più vecchia rispetto alla sua età L'intervista di Anna Tatangelo.E la scorsa settimana Anna Tatangelo ha rivelato nell'intervista doppia delle Iene insieme ad Achille Lauro, un dettaglio molto intimo della sua vita privata La cantante partenopea ha confessato che per stare bene deve fare sesso tre volte a settimane. Dichiarazioni che hanno lasciato senza parole i suoi fan Mentre per quanto riguarda il suo compagno, ha precisato che uno dei cantanti più sexy dopo Biagio Antonacci .